Disegna cosa significa per te ricchezza e fortuna? Certo. Ho pensato molto a come poter interpretare il concetto di ricchezza e di fortuna in un unico disegno, ma non credo nella fortuna casuale, e la ricchezza può essere interpretata in vari modi. Personalmente credo che ognuno crei le proprie fortune e sfortune, la propria ricchezza e la propria povertà. Siamo noi a creare il nostro universo giorno dopo giorno. Ricco di cosa? Di soldi? Di amore? Di cultura? Di cultura? Tutte queste ricchezze arrivano nel momento in cui facciamo della nostra vita il disegno più bello, impegnandoci giorno dopo giorno, e solo in quel caso anche la fortuna si verrà incontro. Perciò se volete un consiglio, fate come questo bambino, dipingete il vostro universo. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Fatto! E ovviamente lo trovate sul mio shop.